Potente appara ragazzi, qua ho Axelogio, oh my god, oggi sono da sole e sono qui a presentarvi un video fantastico o meglio, importantissimo, perché infatti oggi sono qui a presentarvi il Wager Match contro il Cina Wager Match tanto atteso da voi, finalmente io ho preso la play 4, finalmente siamo riusciti a contattarci a vicenda e finalmente eccoci qua a presentarvi questo Wager Match prima di iniziare però vi volevo dire un paio di cose, prima che come sempre vi volevo ricordare di passare da worldfifa.com se siete interessati a comprare i crediti di FIFA e mi raccomando utilizzate Axel con 2 come discount code e detto questo ragazzi, non mi sembra un'altra cosa da dire, utilizzerò la mana del Milan però molto probabilmente me la toglierò a breve perché mi sto ilbernando del tipo che fa strafreddo e io giro in maglietta bello ragazzi, qui è il Cina e oggi siamo qui magicamente come dice lui per una partita insieme a Oaxe oddio partiamo, no, la mia maglietta del Rotucina Team siamo già pronti siamo già pronti, 80 di valutazione, 100 di intesa ragazzi, ci siamo vai, 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 dai, 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 vai, vai che vinca il migliore, che vinca il migliore no, Diego Costa con un grandissimo intervento di... no, eh no rosso ma no, ma no vai, allora, mi terrò le cuffie per il mio primo video perché prima le stavo tenendo al collo però intanto noi ci siamo mamma mia, questi colpi di tacco magheggi magheggi Wayne Rooney, il bambino d'Inghilterra fermatissimo si parte con ti o te e meniche no, 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 no provalo guardate un po' quante veloce no e meniche ma no, perché lì, perché lì, perché lì ci siamo, ci siamo no, non ci siamo cacciara basta Diego Costa attenzione è rigore ma che rigore che cosa che cosa vai, noi possiamo noi non ripartiamo promi i respiri storti madonna intervento cos'è sto lag è rigore che cazzo ma che cazzo ma ce l'hai sempre te dubbiamo ed è vitigno vitigno bellissima azione Obi Mikkel la mette in mezzo dove c'è meniche che non conclude Axel in Cina non parla più noi ripartiamo noi ripartiamo bello perfetto e vieni oh mio dio Arbitro è da rigore Obi Mikkel non capisco niente bello rigore ma come rigore è rigore no ma perché guarda il tuo giocatore a munizio si via Obi Mikkel vai a pelare le patate in Uganda super curtois e ci siamo possiamo ripartire cazzo ma che culo del cazzo e possiamo ripartire noi ripartiamo noi ripartiamo con le meniche bella no tira fallo mamma mia se la vensi fosse andata no fallo Sergei Piputkin di merda chi è Sergei Piputkin è l'arbitro di questa partita è bellissima orco cane guarda che se facevi questo gol ti ammazzavo ti ammazzavo cioè puoi farmelo durante gli eventi ma ah perché ragazzi dovete sapere che il cina ne ha già presi un bel po' dal sottoscritto guarda che culo e meniche e meniche la botta ma no ma no ma che fai 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 ti sento zitto a mia difesa dico che questo uomo qui mi ha svegliato oggi alle undici il che sono solito svegliarmi alle tre di pomeriggio per fare questa partita quindi ah iniziano già le scuse va bene va bene va bene ti credono ci crediamo ci crediamo cosa sto scherzando mamma mia skill random ma vai a cagare due le tue skill guardalo madonna ci dà le vasi ci dà le vasi buono così ma io non capisco perché non la passano bene è un bug però io mi aspettavo manzuki se devo essere sincero eh ho capito ma fa schifo quest'anno attenzione oh signore vediamo se il super curtua ci fa il miracolo Diego Costa Diego Costa Diego Costa e c'è ancora Axel ma hai fatto in tutta la mia vita lo facciamo oggi no no me l'ha vissata e neanche a giro a dirla tutta c'era una di violenza questa qui era una piccatona dai vai così Emenike dobbiamo smorzargli la felicità no no bravo no no bravo Emenike oh orco cane il bug guardalo lì ma che dove il parrucchiere di Emenike voglio capire è morto bella parla per ti o te ti o te bellissima dubbia mamma mia salvatore madonna 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 salvatore no 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 bravissimo Tiago Silva è caduto cazzo bella 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 bravo salvatore ma non è possibile ma non è possibile urlè sì madonna Emenike ma dai ma chi è il tuo portiere Gesù Spider-Man no no attenzione no 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 che infame guardate dove si mette che schifo non c'è nessuno non c'è nessuno che cosa ho fatto no oddio porca miseria ma dai ma 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 cazzo c'è il dribbling di un bradipo ammaccato cazzo no bella un cazzo bella ma dai ma stai testando bravo salvatore ma chi ha in porta guarda i tiri sei a dieci no no ragazzi oddio Diego Costa oh che culo ah ok è dietro eh vai ottantanovesimo ottantanovesimo ragazzi questo decide tutto sì no ha proprio ragione no sì ha proprio ragione facciamogli vedere che ha ragione no 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 ragazzi questo decide tutto no 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 mi sto questo decide tutto è meniche te la no mamma mia oggi sono fatto così dai guardiamo il quattro piede il quattro piede è violento oh oh no dai non farà più non farà più non farà più ho sputato un bambino ho sputato un bambino è meniche no che culo è meniche oddio no ci siamo no ragazzi sto morendo no bravissimo no sì sì aspetta bravo tiago bravo mamma mia tiago tiago ti amo ti amo tiago quindi cosa succede ragazzi golden goal quindi chi segna per primo vincerà sì ma c'è nel senso dai oh ma il tuo salvatore si rigu ti ha salvato eh beh infatti è un salvatore nel vero senso golden goal chi segna vince adesso mi segna il primo minuto orco cane vai è meniche è meniche mamma mia ah pure calcio d'angolo no dai queste cose qui non mi piacciono cosa ma state scherzando stiamo scherziamo ma stiamo scherziamo se riparti adesso con un fallo nettissimo io mi arrabbio se no oddio sì 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 bravo da mire no potevo tirare volevo scartarti anche l'ultimo dio santo che ebete non c'è nessuno in mezzo non c'è nessuno in mezzo ma perché non parti di oh forco cane madonna mi sei rasmorzato il fiato no ragazzi ce lo fa ce lo fa ce lo fa goool goool starridge daniele daniele starridge ragazzi abbiamo perso e vince daniele guarda come li beffa ma non è giusto guarda come li beffa l'avevo detto ti sto insultando mentalmente sappio l'ha detto l'ha falla l'ha falla nella difesa l'ha detto all'inizio l'ho detto all'inizio l'ha falla nella difesa e Courtois si è buttato come spider man e non ce l'ha fatta salvatore sirigu guardate l'uomo partita l'uomo partita sto morendo prima partita che abbiamo fatto persa dio santo facciamo così allora questa la carico io va bene ok va bene la rivincita la ricarica ovvio questo è ovvio quindi aspettate ragazzi la rivincita perché ragazzi ci sarà una rivincita perché io me la prenderò anzi ci sei per farla rivincita certo certo dopo la facciamo dai ragazzi ok facciamo questa rivincita quindi detto questo lasciate un bel mi piace a quanti dobbiamo arrivare alla rivincita tipo a 10.000 almeno perché altrimenti 20 20.000 no non ci prendono sul serio però ragazzi quando voi vedete i nostri video che siete in 20.000 persone almeno 10.000 metteteli metteteli cosa vi cambia cosa vi cambia che poi ci sono ste partite super cose se ci mettete un mille mi piace alla fine noi non facciamo le collaborazioni no zio facciamo così ecco se questo video raggiunge i 5.000 mi piace vai rivincita prima di natale come siamo scesi se questo video raggiunge i 5.000 mi piace no dai se questo video raggiunge i 2.000 mi piace no dai rivincita prima di natale ma tanto va bene allora detto questo io non ho più niente da dire se volete passare dal canale del Cina passateci link lo trovate in descrizione sul suo canale vedrete anche la rivincita e quindi detto questo non ho più niente da dire tu hai qualcosa da dire? ho vinto e quindi detto questo noi vi salutiamo e io vi dico potente appara potente appara bella raga wow